Ai nastri di partenza il progetto didattico oltre il banco che ieri è stato presentato nella lamagna della scuola primaria Lombardo Radice, una scuola che vuole aprire allo sport poiché attenta al benessere fisico dei più piccoli. Il progetto innovativo è destinato agli alunni delle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie del cosiddetto cradere sismico con il coinvolgimento delle scuole primarie di tutto il territorio abruzzese. Un'iniziativa che ha ricevuto anche finanziamento della regione Abruzzo. Orienteering, Arambicata e Tiro con l'arco, queste le tre discipline sportive che dalla prossima settimana saranno inserite nelle ore curriculari. È uno sport molto molto indicato per questa fascia di età dagli 8 ai 10-11 anni per le sue caratteristiche, per lo sviluppo delle capacità di coordinazione e tutte le altre abilità motorie che ne conseguono. Vogliamo dare una concreta opportunità ai nostri alunni, spiega il dirigente scolastico Angela Caputo. Nello sport i più giovani ritrovano i buoni valori e vengono educati anche rispetto degli altri, a senso del sacrificio e dell'impegno. Avrà senz'altro una ricaduta positiva all'interno dell'istituto in quanto rappresenta una concreta opportunità per gli alunni della scuola primaria perché i destinatari sono appunto gli alunni delle terze, quarte e quinte della primaria per potenziare e per conoscere discipline sportive che non sono molto diffuse ma l'approccio con queste discipline consentirà loro appunto poi di scegliere anche e di praticare la disciplina sportiva più congeniale, più vicina alle loro attitudini, ai loro interessi. Un progetto dunque ambizioso per i più piccoli già testato dalle famiglie e dal dirigente scolastico a Dovindoli, tutti pronti dunque per andare oltre il banco per valorizzare il benessere fisico e motorio dei ragazzi.